eccoci qua in collegamento eccoci qua siamo in collegamento buongiorno 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 a tutti buongiorno a tutti ecco ci siamo ho controllato che ci siamo ci siamo buongiorno a tutti eccoci qua per il nostro appuntamento ormai consueto del giovedì io sono roberta lavoro in unic italia e oggi qui con me ho la mia collega io sono valentina e lavoro anch'io per unic italia buongiorno a tutti perfetto vale oggi di che cosa parliamo oggi parliamo di una cosa interessante dei diversi modi di vivere unica infatti faremo un po un'introduzione di chi siamo e faremo una una panoramica dei dei modi appunto in cui qualsiasi persona si può avvicinare al mondo unica perché andremo a scoprire che è una grossa opportunità per tutti che va assolutamente colta assolutamente sì è un'opportunità per tutti hai ben detto ma partiamo un attimino dalla nostra storia chi siamo allora chi è unique unique è un'azienda americana la nostra sede principale si trova lì hai nello stato dello juta centro america più o meno e ovviamente ogni giorno noi qui dall'italia collaboriamo con i nostri colleghi della sede per avviare implementare progetti e strategie eh cerchiamo di capire un po perché unique è nata unique è nata dalla mission con è nata con una mission ben precisa che è quella di migliorare potenziare rafforzare infine costruire l'autostima delle donne fornendo inoltre una fantastica opportunità di crescita personale e perché no anche di remunerazione eh economica eh diciamo che eh la decisione di cogliere l'opportunità unique ha davvero noi crediamo un impatto immediato eh perché ogni singolo prodotto promosso o acquistato può aiutare una persona ad avere maggiore autostima a credere maggiormente in se stessa e così ovviamente anche influenzare tutte le persone che che stanno intorno a lei eh noi crediamo davvero che eh ne vale la pena per le vite eh che è possibile cambiare per l'esempio che si può dare agli altri eh ma anche per una soddisfazione personale eh perché qui si possono conoscere tantissime persone eh si possono fare tante esperienze meravigliose e ovviamente come dicevamo prima ci può essere anche una gratificazione economica quindi unique può essere la scelta giusta eh per qualsiasi tipo di persona può essere una scelta per tutti eh per qualsiasi tipo di età ovviamente dai 18 anni in su e può essere una scelta eh davvero per tanti perché potete scegliere unique semplicemente perché volete un hobby perché siete make up addicted quindi siete super appassionate di make up oppure perché magari volete eh diventare imprenditori avete lo spirito imprenditoriale state cercando ehm l'opportunità di costruire un business e noi davvero non non ci sono requisiti per entrare in unique e è un'opportunità davvero eh per tanti per tutti anzi basta ovviamente avere tanto entusiasmo e ovviamente anche un po' di voglia per per mettersi in gioco giusto? Assolutamente assolutamente infatti eh se pensiamo l'opportunità è appunto come dicevi te è aperta a tutti infatti tra le nostre consulenti ci sono anche un sacco di mamme mamme lavoratrici solo mamme eh ma anche donne che lavorano eh che hanno però anche il desiderio di eh provvede quindi di eh provvedere alla propria famiglia senza sacrificare appunto tempo di qualità ecco chiamiamolo così il quality time come direbbero gli inglesi che è cosa sempre più rara no perché siamo sempre incastrati tra mille impegni e non è sempre facile conciliare appunto la vita lavoro e unica a questo tipo di sensibilità infatti può garantire una massima flessibilità di orario perché appunto il capo siete voi siete voi che decidete quanto impegno metterci quanto tempo dedicarci e quindi eh ovviamente potete gestirvi eh eh questa attività negli spazi che voi desiderate ma la nostra è un'opportunità anche per chi è affascinato dalla moda dai trend no quindi ovviamente il mondo del beauty sappiamo che è un mondo dinamico un mondo eh sempre eh ricco di innovazioni e unique non non è da meno in questo anzi noi crediamo molto nell'innovazione dei nostri prodotti e abbiamo sempre in occhio di riguardo nei confronti del trend e appunto eh tanto che appunto eh unique eh offre eh questi cosmetici all'avanguardia e eh questa attività può anche significare diventare influencer e blogger sui social media perché abbiamo anche delle consulenti che eh che lo fanno diventano delle brand ambassador e esercitano appunto un'influenza tra i loro tra i loro follower ok quindi eh forse magari già alcune di voi eh lavorano nel settore della bellezza o semplicemente magari adorate essere sempre favolose beh avete trovato con unique l'azienda assolutamente che fa per voi e che vi offre la possibilità di monetizzare i vostri consigli beauty avere prodotti di bellezza e di alta qualità innovativi e divertirsi quindi potete anche divertirvi e creare il vostro mondo eh diciamo di bellezza quindi se vi piace divertirvi fare amicizia secondo me questo è il mondo che fa per voi e il posto giusto per voi con unique inoltre avete l'opportunità di fare quindi nuove amicizie di costruire il vostro team oltre che diventare parte della UI Sisterhood quindi incontrare drone straordinari in tutto il mondo che eh sono delle leader che possono anche ispirarvi essere un punto di riferimento anche come modello di crescita vero Roby? Sì assolutamente super corretto tutto quello che hai detto ma eh ricordiamo anche che unique può essere una opportunità per coloro che vogliono creare il proprio business proprio come dicevo all'inizio perché perché il network marketing è davvero ricco di occasioni per le persone che vogliono lavorare per le persone che vogliono dedicarsi allo sviluppo personale diciamo che chi è ambizioso e a grinta davvero noi crediamo che con noi possa raggiungere la propria media meta e inoltre eh c'è una fantastica opportunità che è quella di lavorare sui social media grazie a unique e sappiamo che social media aiutano tantissimo a mettersi in contatto con tante tante persone quindi questo è un plus da tenere in considerazione se si vuole scegliere unique se si vuole scegliere questa attività diciamo che creare relazioni online e ampliare il proprio network eh lo sappiamo l'abbiamo visto con tante consulenti può all'inizio spaventare perché eh sicuramente senza dubbio all'inizio bisogna uscire un po' dalla propria zona di comfort ma eh tantissime consulenti hanno rotto diciamo questa timidezza iniziale all'inizio non avrebbero mai mai pensato di riuscire a ad arrivare dove effettivamente sono arrivate anzi all'inizio magari non pensavano nemmeno di riuscire a fare un selfie piuttosto che piuttosto che un live e adesso invece sono donne orgogliose di avere un team orgogliose di avere una rete di clienti da gestire e davvero devo dire che le vedo tanto tanto soddisfatte quindi assolutamente si può fare si può fare tanti l'hanno fatta e come diceva Valentina il capo siete voi quindi unique è un'attività che vi potete assolutamente autogestire è un'attività che vi garantisce un pagamento eh dopo solo tre ore dall'ordine e vi dà la possibilità di scoprire davvero il leader che ognuno di voi c'è eh e vi aiutiamo diciamo qui in unique vi possiamo aiutare a sviluppare il vostro spirito imprenditoriale questo sicuramente diciamo eh non è un vantaggio non è un vantaggio da poco esatto eh in unique dipende tutto solo dalla scelta di iniziare e dall'impegno che eh ci vogliamo mettere quindi se c'è tanta passione tanta voglia di impegnarsi davvero qui da noi ci si può divertire qualsiasi sia l'obiettivo che avete ma ora vale noi abbiamo parlato tanto magari direi che è il momento di fare delle domande a chi ci sta seguendo diciamo delle domande delle quali magari vi lasciamo un po' tempo di riflessione poi se poi vedrete questa live in condivisione potete anche rispondere alla persona con la quale eh che che condividi appunto questa eh questo video ehm quindi eh vi siete mai chieste se esiste un modo per voi per poter generare un'entrata finanziaria tramite social media prima domanda se avete dei desideri particolari da realizzare che avete nel cassetto che volete sentite quel desiderio appunto eh di raggiungere qualcosa anche per voi stesse ecco volete seguire un progetto che però non interferirà con le vostre attività quotidiane in famiglia o al lavoro volete avere più tempo da trascorrere con la vostra famiglia avete mai avuto la sensazione di voler fare di qualcosa più grande ok e anche qui ehm quanto tempo ehm pensate che dovreste impegnare e impiegare scusate per ehm in qualsiasi altro lavoro per ehm ottenere dei risultati eh che vi appaghino ecco e e infine cosa vorreste cambiare della vostra situazione attuale sono un bel po' di domande tante domande che secondo me hanno un'unica risposta e unique unique è un po' la risposta a tutte queste domande me l'abbiamo fatto capire anche eh facendo vedere appunto che i unique tutti possono entrare non serve avere una delle particolari eh referenze un particolare percorso eh precedente in materia di beauty anche perché di formazione in unique ne trovate tantissima ma quello che vi serve quello che vi serve è semplicemente la voglia appunto come dicevamo prima di mettersi in gioco di provare qualcosa di nuovo e avere ovviamente uno smartphone un tablet un pc per registrarvi infatti quando poi riceverete il vostro kit consulente scoprirete che non solo non potrete farne più a meno ok ma non vedrete l'ora di condividere il vostro entusiasmo con chi vi sta attorno è vero quindi noi vi aspettiamo qui per darvi il benvenuto e per offrirvi tutta la formazione necessaria per iniziare davvero noi pensiamo che basta solo un mascara per cambiare la vostra vita e la vita di tutte le persone che stanno intorno a voi entrare in unique non significa avere solo accesso a fantastici prodotti di bellezza ma significa cogliere una vera e propria opportunità di cambiare anche radicalmente la vostra vita quindi se volete maggiori informazioni visitate il nostro sito www.uniqueproducts.com e rivolgetevi ovviamente alla consulente che vi ha mostrato questo video noi davvero non vediamo l'ora di darvi il benvenuto qui nella nostra why family assolutamente vi aspettiamo a presto e grazie a presto ciao